e bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su GTA 5 online oggi ragazzi siamo in un'attività insieme al suino pork mods grandissimo sui mettiamoci il nostro completino continui a do star suino eccolo a sui facciamoci un bel potere puntiamo anche mille dollari sul suino che sicuramente è il favorito però gli daremo filo da torcere in questa chiara dita ragazzi attendiamo 5 secondi di momenti chi c'è qua? gg gg guarda tutti i corvestiti della crew ok questa gara si chiama leo toy story c'era qualcosa di toy story vediamo vedo qualcosa la da un cane vedo 3 2 1 e lezzo iniziamo di faccare vita guardate quanti suini in attività corso in e se luoghi a luoghi a luoghi a luoghi a luoghi ok vieni diciamo da fare un salto ok 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 ecco tutto tranquillissimo ok teri scogli Estate Cari Stul hurts muove prima dobbiamo recuperare Ersuino presentate human ride wow wait Ok Vai un ride, guarda cosa c'è? Spirali, ohioioi Guardate che busto li hanno presi Non si vede niente Non so, non so, spirale, fortuna che sono allenato a fare per esempio il level asian Oh no, no, no Frena, non ci voglio credere Ho saltato il check Non ci voglio credere Poteva mettere un benedetto freno il creatore No, no Lui i freni non gli piacciono Non c'è anche l'interagente davanti No Ti moccate Come mi sono trollato lì Ormai Il podio mi sa che ce lo scordiamo Stavano andando anche piano Stavano andando forte No, no, no Piano, 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 piano Piano, piano Che petrolli Te l'avevo detto, piano che petrolli Ok Andiamo Allora qua che c'è? Ok Qua ci giriamo Siamo qui Speriamo di riuscire a riuscire a riuscire a qualche posizione Perché l'ho sottrollato lì Non mangio l'aeroporsoino Andiamo, andiamo Allora Questa non mi sembra una gara Molto difficile Quindi penso che Sarà molto duro a recuperare le prime posizioni Però dai Ci troviamo Vero Questo è qua No, no Non dirmi che c'era da seguire Era un quel ride, vero? Trolla sta gara Questa è veramente 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 Questa è la vera Vedete la quello giallo Andarei tutto Qualcuno sta volando male Ok No, no Ehi ragazzi Primo Ecco Non c'è ancora fatta nessuno A fare questa parte qua Credo Qui in pratica c'è subito da girare così Ok, ok Ci siamo Questa gara non lega l'altro No, no, no Non ci voglio credere No, check check Prendilo No, stavo per citare tutto Vabbè ragazzi Io non ci voglio credere Non ci voglio credere Quanto trolla Stavo per citare Stavo per citare Pianissimo Posso trovare l'altra parte che trollava? Qua non so Allora, sta parte è difficilissima Sta parte è difficilissima È un level asian questa Non è un parkour Eh ma è troppo difficile Questa è lì E' anche L'avevo recuperato Ok Non è andata Non è andata No, proviamo a farla normale Eh, proviamo a farla normale Ma è troppo difficile Non so Non so Non so Non so Non so È un punto dove si potrebbe citare Però Però così No, dai Dai Dai, dai, dai Dai Nooo Di fare un pelo Mi devo buttare più veloce L'unica è eccitarla Ragazzi Beh, qualcuno ha fermato Eh ma Si è scappato Si 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 Potremmo Qui è totalmente impossibile Non so Che ne hanno fatto Che ne te l'hanno fatta Chi è il tuo KS Chè Non so Che ne hanno fatta Fatti Non so Non so C'è Non so Le cose così e l'acito. Devo farlo molto tempo prima questa cosa qua, però va bene, adesso c'è da salire sul tubo, siamo qua. Eh sì, è bello avanti. Eh, la parte mi ha fatto veramente cidano, facciamo dei giri qua per prendere un po' di busto in più. Sei minuti di gara che la parte è la tremenda. Ancora qua ce l'abbiamo. C'è un gp, ma sono due giri? No, finito appunto, per fortuna. Andiamo a recuperare i fork mod, se riusciamo. No, ho parlato, ho concluso, l'ho concluso in prima, sì, è bravo il suo. Noi dobbiamo ancora arrivare a quella parte dove ci sono i cani, non so cos'è, faccio qualcuno. Guarda, dai radio del Kodios. Oh, mio D. Cos'è questa roba qua? Vi ammetto che bisogna andare tutto veloci, se no non ci si arriva. Lada, qui è un cane, dove è stato arrivato? Ah sì, un cane è strano. Secondo, guarda, sorpasso in aria, no la scia, no, adesso me trolla, dammela scia, dimmi che ci arriva, dimmi che ci arriva, ci arriva, perfezione, vabbè, c'è un po' di car boosting, una lotta per il podios, faccio la lotta per il podios, ah è traguardo, secondo, oh yeah, secondo, perché mi sono trollato troppo in quella parte, però complimenti di Arsuino che l'ha fatta subito quella parte, è arrivato primo. Ok, bellissima gara con il suino e noi ragazzi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video, bella!